Sigmund Freud, il disagio della civiltà. Il disagio della civiltà del 1930 è un testo della maturità di Freud. La tesi centrale di quest'opera è quella in accordo con la quale la civiltà è, per così dire, un male inevitabile. È un male da che reprime e devia gli impulsi libidici e proprio per questo motivo l'intera società può essere considerata malata dal punto di vista di Freud, anche se di una malattia generica. Anche se non vi è sofferenza, regna ciononostante il disagio per il fatto che le pulsioni vengono repressivamente soffocate, ma si continua lo stesso a sentire il bisogno della civiltà. Tale idea, ossia quella di una società a disagio per un eccesso di Apollinio, rievoca fortemente il pensiero di Nietzsche, anche se per il profeta del superuomo questo disagio è eliminabile nel momento in cui si giunge a quello che Nietzsche stesso chiama il nichilismo attivo. Per Freud, invece, non ci si può in nessun caso liberare dal superio e ne scaturisce una mesta prospettiva di accettazione di un male ritenuto necessario. Nonostante queste considerazioni, Freud in vero non è così pessimista come possa tutta prima sembrare, in quanto, benché rifiuti la possibilità ammessa da Nietzsche di uscire dalla società, non rifiuta comunque la prospettiva secondo cui è possibile migliorare la società. Ed è per questo che Freud scorge nel movimento socialista del suo tempo non un modo per realizzare il paradiso in terra, ma sicuramente un modo per ridurre il disagio che opprime la nostra società. Ancora una volta Freud, nella convinzione che la società possa guarire un poco alla volta attraverso l'assunzione di medicine adeguate, rivela di essere un medico e insieme a un filosofo, una categoria anfibia che si nutre tanto della medicina quanto della filosofia e che perciò stesso ha un profilo veramente unico nel panorama della cultura occidentale.